Buonasera, vedo molte facce nuove e sono molto contenta. Buonasera, questo è il circolo banco, un circolo storico del partito comunista che poi negli anni, come sapete, le cose cambiano e si rinnovano. Adesso ci sono dei giovani, io gestisco la Street View insieme ad Alessandro Fara che è un ragazzo che sta facendo le riprese. La Street View che cos'è? È tutto su strada, perché qui dentro il banco ci sono delle attività per bambini, e ovviamente è fatto per la gente che cammina per strada, perciò si nutre la gente quando va a fare la spesa, quando comunque passa e si incuriosisce di quello che c'è. E' un mettere un piccolo seme di arte sulla strada. Ringrazio Dino e ringrazio Sara Pergola. La cosa interessante è che io sono una curatrice e ho invitato Sara Pergola che è una curatrice che ha vissuto per tanti anni all'estero e abbiamo così deciso di parlare, di fare anche un percorso di quello che può essere la fotografia di Dino. Ok? Perciò, se vuoi iniziare, se... Prima di tutto chiederei a Dino di presentarsi e raccontarci un po' biograficamente, insomma, chi è. Certo, ciao. Ciao. Ah, qui è più basso. Va bene. Puoi cantare? Canta un po'. Allora, vi canto un pezzo in cinesi. Bam bam. Com'è che fa? Cinesi. Dai, 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 dai. Perfetto. Ok. Ti senti? Adesso mi sento. Va bene? Eh? Sono Dino Yasharivic, la maggior parte delle persone qui presenti oggi mi conoscono, ma faccio una breve introduzione anch'io di chi sono. Sono un italo-gosniaco, arrivo in Italia nel fine 92-93, scappo dalla guerra insieme alla mia famiglia, la guerra dei Balcani, e passo tantissimo tempo nel Veneto, come si sente dal mio accento, se volete farlo in Veneto. C'è un'altra lingua che metto sempre nel mio curriculum, perché lo ritengo fondamentale per il mio background, e penso che sia una lingua... Purtroppo non ho imparato il piemontese, perché stando a Torino, il piemontese non si parla. Mi sa che mi dovrò trasferire in un altro posto. Al Asti. Sì, al Asti, dico. E... Arrivo a Torino una decina di anni fa, forse anche di più, 15, conosco dei miei amici, fratelli, con i quali abbiamo una società di animazione per bambini, lavoro principalmente con bambini e ragazzi, organizziamo le vecchie colori estrive, che adesso si chiamano Summer Camp, l'agenzia si chiama Nuova Idea. Finisco a fare questo lavoro per un semplice fatto, essendo un rifugiato di guerra, scappato dalla guerra da piccolissimo, mi accorgo che ho perso tutta una parte della mia vita, della vita di un uomo comune, che è quella dell'infanzia, di essere bambino e di giocare. Me la sto vivendo tuttora, come dicevamo prima con Rosi, i bambini bisogna rimanere per sempre, e lo faccio inconsciamente tutti i giorni nel mio lavoro, faccio l'adulto nel corpo, anzi il bambino nel corpo di un adulto. E la fotografia la incontro nel 2009, con un viaggio che faccio in India, in India del Nord, parto con una macchina fotografica che non so assolutamente usare, sul seguirsi di fatti, fa sì che io conosco una persona che mi segue durante il mio viaggio e mi insegna tutte le basi, la tecnica e quello che si può fare con la fotografia, anzi quello che si può fare lo vengo a conoscere dopo, intanto inizio a capire la grammatica, diciamo tra virgolette, torno in Italia e capisco che il mio modo per esprimermi, per comunicare le mie emozioni e quello che provo, lo posso fare attraverso le immagini. E quindi inizio a fotografare compulsivamente, diciamo, fotografo tutti i giorni, fotografo tutt'oggi e rimane per me comunque una passione. È vero che con la fotografia faccio anche dei lavori, però principalmente è un mio modo di esprimermi e un mio modo di comunicare. Ho capito con la condivisione della fotografia, che è quella di conoscere più persone possibili, magari che anche non sanno di che cos'è la fotografia, in capire quali potrebbero essere le diverse sfumature, i diversi modi di comunicare. Finché non riesco a costruire dei miei progetti, il primo progetto vero e concreto che faccio è Trax & Scars, ed è un progetto che ho dedicato a Chloe prima della sua nascita, che feci tre anni fa. E in questo progetto faccio una mia piccola analisi interiore di com'è vivere l'attesa di un bambino o di una bambina da parte di un uomo e non solo della donna. Invece oggi stiamo a parlare di Ocus Focus, è un progetto che faccio a quattro mani, quindi l'abbiamo fatto io e Chloe insieme, vero? E ci siamo divertiti con le nostre macchine fotografiche, con le immagini. Questo è un piccolo intro di chi sono. Ti sento anche tu, così almeno? Va bene, io sono Sara Pergola, sono una curatrice d'arte contemporanea, di design contemporaneo, ho lavorato principalmente a Londra, ad Amsterdam e anche in Italia. E ho lavorato per musei, galliere d'arte, associazioni non profit più o meno importanti, molti fiere d'arte all'estero soprattutto, quindi Parigi, Miami, Basel, insomma un po' quello che era un po' il mainstream, ma al tempo stesso ho sempre mantenuto dei progetti molto più reali, perché io penso che l'arte emergente per altre volte sia molto più reale di quella che fa parte del mainstream, perché non è assoggettata a determinate dinamiche di mercato. Infatti nel lavoro di Dino mi colpisce questa cosa, il fatto che lui non campi di fotografia, il fatto che sia un autodidatta e che questo dia a lui questo ampio raggio espressivo, perché lui parla di passione per la fotografia e questa passione viene comunicata attraverso questa semplicità, il fatto di non essere assoggettato a queste dinamiche, il fatto di non dover piacere per forza per vendere, crea una certa leggerezza, dà la possibilità all'artista di scriversi veramente. E questo è percepibile, secondo me, dalle sue opere. Ho guardato pure un po' i suoi lavori, a parte August Focus, ho guardato un po' le opere precedenti, quindi quello che ha notato è la tua passione. Tu parti dalla street photography, il fatto della strada. A me questo è un concetto che mi interessa molto, perché la strada è qualcosa, non solo, noi non abbiamo soprattutto uno sguardo, voi vi distinco, verso la strada, la strada è parte di noi, la strada ci attraversa, noi siamo la strada e noi poi riportiamo la strada alle nostre case e riportiamo la nostra casa, la nostra intimità della strada. L'arte è relazionale e in vino questa, eh, in vino, scusami, questa arte, questa relazionalità si nota molto, soprattutto nell'ultimo progetto. Nell'ultimo progetto non si parla più di autorealità, gli autori sono tutti, c'è un confine quasi indiscernibile tra la mano di Dino e la mano di Chloe. Noi come spettatori non sappiamo dove inizia la mano di papà e dove inizia la mamma della figlia. E questa è una cosa fantastica. Noi possiamo intuire che alcune foto possono essere scattate da Chloe, possiamo intuire che altre foto siano scattate da Dino. e questa non referenzialità che a me colpisce perché non c'è questa pretesa di dire questo è il mio, ok? E anche questo è dato anche da chi percepisce la foto o comunque l'opera. Perché secondo me la strada ci attraversa. non è che noi la guardiamo e basta. Però vorrevo dire anche un'altra cosa. Il fatto del gioco, no? Sottolineare il gioco è evidente il gioco. In Ocus Focus è ancora più evidente perché già il nome ci dà questo slancio sul gioco, no? è una parola magica è una parola che non significa è una frase che non significa niente ma può significare tutto. E l'arte come diceva Kant è gioco senza scopo. No? E quindi non è soggetta a queste dinamiche di mercato. E noi lo percepiamo. Allora quello che mi è piaciuto dell'evoluzione del lavoro di Dino è stato principalmente dal reportage ok? Quindi un reportage che non era appunto poi avviso ma era un racconto ha un'altra visione che è quella di Trax & Scars che è una visione che è più intimista più empatica proprio perché c'era la gestazione coinvolta e sembra questo un attraversamento di genere perché solitamente noi assediamo la gestazione a chi? Alla mamma alla donna e no è anche il papà che aspetta un film è anche il papà che sta per mutare il suo sguardo sul mondo quindi è interessante questo cambio di visuale e se è sempre attraversato questa strada c'è ancora e secondo me la strada c'è anche in opus focus in che maniera? Dalla strada lui loro hanno riportato la propria intimità e l'hanno anche riproiettata sulla strada perché durante la pandemia loro hanno proiettato le loro foto all'esterno di opus focus mi piace molto questa dualità questa complementunità questa visione molto intima e questa che non è casuale anche perché io penso che voi avete fatto più scatti non sono solo quegli esposti o quegli scelti nel tuo libro e quindi c'è un racconto inizia con questo racconto inizia con le tre mani e finisce con i tre molti sfocati è molto interessante la poetica no? e quindi voi avete dato forma a qualcosa e e si vede questa relazionalità dell'arte no? qui si vede anche la famiglia cioè proprio l'uno perché prima della pandemia ovviamente erano i tre e c'era questo gioco poi anche della della moglie cioè io non mi ricordo come ti chiami Valentina Valentina perciò è proprio il senso anche della famiglia di stare insieme in un contesto comunque che è la pandemia certo coraggi che si sbaglia però fare qualche no io mi sento come da uno psicologo no? vedere le proprie fotografie analizzate da persone esterne è una cosa che mi che mi che mi riempie e hai centrato proprio tutto questo cerco che si chiude con anche il desiderio appunto che finisse tutto in strada ed è un concetto fondamentale che io condivido e apprezzo tantissimo da parte di Rosi che lo fa per la collettività che c'è qua all'esterno e che e che chiude un po' questo posto che io ritengo veramente magico su Torino e hai fatto veramente delle osservazioni che sento tantissimo mie nostre ed è quella cosa che io ci ho impiegato non lo nego tanti anni ed è quella di essere libero di esprimermi con il mio linguaggio quindi uscire fuori dai preconcetti e dai dogmi che magari ti possono essere fissati da esterni e capire che io sono questo e se tu hai voglia di leggermi di guardarmi per me va bene se non ti piace mi va bene lo stesso sì ma noi avevamo proprio voluto dare proprio io e Sara e tanto sono contenta che c'è lei perché realmente intanto sia io che Sara come ho detto facciamo lo stesso mestiere ma realmente tutti e due anche noi abbiamo un occhio verso la strada la street view è verso la strada ed è verso la gente lei ha deciso di non stare nell'ambiente mainstream ma di dedicarsi a tutto quello che è underground che è una cosa che comunque anche a te interessa perciò era proprio interessante che Sara dava la sua lettura perché io più o meno l'ho data dal mio piccolo ma lei ha fatto un'analisi molto perché è anche importante adesso tu sei qui per la vendita del tuo libro che è interessante però secondo me Sara ha tirato fuori tantissime cose che adesso se continui perché è molto interessante il tuo lavoro perciò ce ne siamo innamorati perciò prego Sara no però voglio capire perché le interpretazioni possono essere infinite d'accordo e quindi il rimando all'artista a vedere se la mia interpretazione può corrispondere a quello che era il tuo messaggio per me è molto importante per andare fuori aare insomma andare oltre no no per me hai colto proprio ogni punto rispetto e hai capito proprio per quanto è importante per me la strada per quanto è importante anche il luogo dove ci troviamo e la vita che c'è qua che è quella che mi piace di più di tutta Torino perché c'è ancora vita di strada in questa parte di Torino che magari in altri posti non la trovi perché è molto più frenetica qui invece hai tanta gente io non so quanti bambini quanti ragazzini ho visto qua che ormai nel mio quartiere ad esempio non vedo più prima ero a parlare con il nonno di Chloe che è cresciuto qua e che mi raccontava che anche lui da bambino ha vissuto questo posto e mi raccontava degli aneddoti la cosa che magari alla quale mi voglio collegare come August Focus è che Chloe mi ha aiutato a ritrovare delle cose che io ormai le davo per scontate ed è questa la magia dei bambini che ci fanno ritornare sui piccoli dettagli sulle piccole cose che ormai noi forse diamo per scontate o sono delle cose che ci passano davanti agli occhi o delle situazioni che ci passano davanti agli occhi alle quali non ci soffermiamo più invece con loro è bello riscoprire e insomma risopermarci su questi piccoli dettagli sì infatti infatti quello che volevo dire è proprio questo tu passi dal macro al microcosmo familiare a questa intimità e questo è dato grazie alla moltiplicità di sguardi e questa non autorealità a me piace proprio perché questa moltiplicità di sguardi dà la possibilità alle vostre opere di parlare al curale no? anche perché la fotografia comunque l'opera d'arte è scambio no? e anche il fatto che non ci sia un tecnicismo scudelato è una cosa magica no? il fatto che le foto siano sfocate cioè questo essere sfocate sarebbe brutto se fosse casuale nel senso che è normale che magari tante foto casualmente siano state scattate in maniera sfogata ma sono incorniciate raccontano qualcosa e lo sfocato secondo me lascia da una parte questo sospeso che deve essere riempito un po' da chi osserva però allo stesso tempo è conniciato dalla fotografia dalla quadratura ma è anche co-costruito da chi la osserva un'altra cosa di questo sfocato che a me interessa molto è come se fosse un attimo che è come se fosse una fotografia che voglia raccogliere non soltanto un attimo ma più un attimo insieme perché c'è il movimento della sfocatura come diceva nei suoi giochi linguistici un'immagine sfocata è pur sempre un'immagine una fotografia sfocata è per sempre una fotografia tante volte questa sfocatura può parlare ancora di più rispetto all'immagine litida perché c'è un racconto c'è una co-costruzione c'è una partecipazione e quindi se contestualizzata la sfocatura parla Sì scusate se ti interrompo è proprio è partito tutto dalla sfocatura è partito da un errore che poi è diventato una una ricerca dello dello sfocato perché ho voglia di dare anche nella persona appunto del fruitore quella voglia di di sforzarsi di dare un'interpretazione sua quindi non voglio un'immagine nitida che sia appena fissata ma voglio che le 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 testa di chi guarda le mie fotografie ognuno si faccia i propri i propri viaggi i propri flash quello che è la stessa basa anche sulle composizioni e tutto tutto quanto mi è capitato la settimana scorsa di fare un intervento in un circolo fotografico dove invece si parla molto di più sulle cose tecniche e quindi mi hanno detto di nogi hai piazzato delle bombe quali tra noi perché abbiamo capito quali potrebbero essere invece le potenzialità di immagini non tecnicamente belle questo fatto della tecnica è una cosa che vorrei sottolineare fino a che punto una fotografia può essere dicendo bella perché tecnicamente fatta bene rispetto di quella grammatica di cui si parlava e quando la fotografia invece diventa fotografia artistica e lì c'è una cosa che gioca ad alto che è una produzione di senso quindi la partecipazione è sempre questa relazione c'è sempre uno scambio questa relazione è tra l'opera è il fruttore che dota di senso quest'opera quindi è l'espressività è la comunicazione quindi perché una una fotografia perfetta non è un'opera d'arte noi c'è anche una storiografia no? fotografica che ci ripone dei limiti noi secondo la storiografia fotografica noi dobbiamo cogliere l'attimo in maniera perfetta e anche l'intervento postumo tu usi photoshop quindi ci sono degli interventi anche l'intervento postumo non è veramente accettato no? perché deve però questo è soltanto perché? è soltanto una una legge è un dogma strutturato così perché storicamente c'è stato dato così ma in realtà invece no se questa fotografia quest'opera può parlare meglio con degli interventi fatti dopo perché non parlo? lo scopo è quello di comunicare lo scopo non è quello di essere perfetti altrimenti si va a fare la fotografia per le riviste ma tanto di cappello non c'è nulla da togliere a quello però a mio avviso quello non è arte la post-produzione comunque c'è sempre comunque anche la parte comunque analogica c'è la camera scura c'è sempre secondo me adesso hai toccato questa cosa però è interessante invece quando veramente la fotografia diventa poi comunque un'opera d'altra perché in questi anni qui con il digitale si è molto più facile però c'è anche ci sono anche tantissimi artisti che lavorano solo con tranquillamente con i telefonini perciò diciamo che forse bisogna un po' scardinare questi questo modo di pensare per essere più liberi e lavorare un po' più col cuore secondo me ed io lo fa io lo faccio con Chloe poi parto ancora di più infatti alcune fotografie sono colorate sono colorate con una post-produzione su Photoshop ma perché è un gioco ci siamo messi a giocare e abbiamo visto che comunque è un nostro modo per esprimerci e non ci siamo dati dei limiti e Chloe mi ha aiutato a non avere limiti un'altra cosa che sarà detto prima è che non si capisce dove inizia la fotografia di Dino e dove finisce la fotografia di Chloe io la prima cosa che chiedo a tutti quanti è per favore non chiedetemi quali sono le mie foto e quali sono le sue perché non vi voglio non vi cambia nulla non vi cambia nulla come svelare il comando sì con il senso no perché è magia la magia la magia questa magia questa coautorialità mi fa pensare non tanto alla jazz session ma piuttosto a un concerto perché la jazz session può essere anche curiosa parliamoci allora a te piace il jazz può essere un po' sai invece questo concertarsi questo concerto questo orchestrarsi crea questa questa magia secondo me quindi la trovo molto interessante questa parte della fotografia come trovo anche molto interessante che tu non ti preoccupi del device tecnico da utilizzare l'importante è comunicare e farlo con i mezzi che si hanno io invece dato che la fotografia mi dino mi passi un 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 mi piace molto che lui nella fotografia lavora con tanti neri e bianchi però esce fuori molto il nero però poi nella postproduzione che è fatto con adesso qui ecco si vengono i colori sono veramente bellissimi perché sono di rosa sono i colori di clore certo tu non avresti mai usato assolutamente no sono i suoi colori sono i colori che usiamo quando lei disegna e in quel momento lì abbiamo deciso delle fotografie io le chiedevo i colori e lei mi faceva colorare le 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 fotografie infatti sono perfette no guarda che comunicano bene insieme e tra l'altro questa è una foto molto interessante la doccia proprio bene a me piaceva anche molto dei particolari quelli scusa non so se la trovo qui c'era una fotografia dove si vede un un esterno a parte i primi piani questi primi piani spocati secondo me sono sono fantastici c'è quest'aurea no quasi come è come se emassero un'area un qualcosa un qualcosa non definito appunto e poi ci sono allora se la trovo a parte questa vorrebbe sempre la post-produzione questa mi piace molto e c'è anche il riflesso tra l'altro della persona che fotografa e quindi ci sono due vari rimandi c'è l'esterno c'è l'interno ci sono altre immagini intimiste ci sono altre finestre perché voi avete colto nel vostro nella vostra dimensione casalinga avete esposto un momento storico molto particolare quindi avete condiviso il vostro intimo di quello che abbiamo vissuto un po' tutti quindi di un momento storico condiviso cioè che abbiamo sofferto che abbiamo vissuto tutti in maniera diversa e espolendolo poi proiettandolo verso l'esterno avete anche condiviso col vicinato prima di tutto che è una cosa molto importante il fatto appunto di portare alla strada per riportare a qualcosa di bello a persone vicine a noi ma anche attraverso i canali social no? se non sbaglio l'avete anche questa foto mi colpisce tanto e questa potrebbe essere fatta sia da lui che da lui non ci interessa sapere chi sia l'autore perché sennò proprio si parla appunto di questo concetto di questa relazione e la messa a fuoco di questo piccolo dettaglio quindi ritornare a questi piccoli dettagli le bambole i pezzi di bambole i pezzi di bambole i pezzi di gambe di Chloe che un po' si confondono che non si sa che cosa sia veramente è divertente è un gioco divertente e questo è quello che colgo e credo che della selezione di foto fatte da voi si 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 permetta questo gioco e questo lasciare un po' in sospeso perché un gioco se ben ben finito se noi sappiamo tutte le regole sappiamo come va a finire non è più invitante è divino non è più invitante sì è partito poi non è che io ho detto a Chloe finiti la macchina foto che tra un anno pubblichiamo un libro è stato non lavorando e non vivendo di fotografia ho questa fortuna è stato un lavoro in corso quindi c'è stata una raccolta di fotografie un archivio dal quale poi si è si sono scartate delle fotografie delle fotografie che magari possono essere anche molto belle singolarmente ma che secondo me non andavano in questo racconto quindi mi sono dovuto a volte sacrificare a togliere delle fotografie per le quali magari ero anche appazzionato ma che vedevo che in un racconto del genere non andassero non andassero inserite ed è stato proprio questa cosa qua nessun tipo di forzatura che non è stata violentata nessuna bambina dal punto di vista fisico di oggi devi fare queste fotografie oggi quando se la sentiva come oggi a un certo punto ha chiesto posso prendere la macchina foto papà lei si mette e gioca continua a giocare poi se un giorno smetterà il papà sarà contento lo stesso perché farà ma la vogliamo sentire però è un po' fuori vieni qua è un po' fuori sì ti sei divertita a fare queste foto sì sì ti piace fare delle fotografie cosa ti piace fotografare Alta 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 è la sua barbola c'è anche scosta Alta è la sua barbola poi cosa ti piace ancora il pallino quello blu quello quello con la bambina il pallino ah il palloncino quello del bambino ok sei contenta che sono venute tutte queste persone a vedere le tue foto sì mi chiedovi se hanno qualche domanda da farti avete una domanda mi ha colpito molto ci sono degli sguardi verso l'alto perché noi tra l'alto ci guardiamo in un certo modo e io ho due figli spesso mi hanno fatto fotografie e spesso mi sono trovata lì ma era ma solo così nel senso in che modo mi guardassero tu quando guardi c'è le foto c'è le foto che mi hanno colpito non so se era uno sguardo capace di cogliere qualcosa che in realtà molte altre persone non riescono a vedere e quindi più che una domanda era farti un compliment perché penso di aver visto delle cose che forse non avrei potuto vedere invece però adesso il tuo sguardo penso di averle potute vedere è un po' una magia come avevi detto insomma ci sta ti piace fotografare le persone si ti piace fotografare le persone da vicino o da lontano da lontano è soggettivo la lontana perché per lei anche un metro da una persona è lontana perché lei adora stare addosso alle persone hai sentito una domandina durante il lockdown era un po' so stare a casa vero? si allora questo gioco con la macchina fotografica ti ha fatto sentire un po' meglio? no no ti piace giocare con la macchina foto? no no non ho fatto string adesso ho fatto con la ring adesso se ne poterà fare tutti grazie qualcuno ha dato a bere a questa del vino? del vino voglio dire qualcosa Claudio? no intanto vorremmo fatti i complimenti grazie noi anche a te è il presidente è il presidente è il presidente io sono qua a tutta la mia io io ho conosciuto una vita un ragazzino quando ci siamo conosciuti però era evidente che avere un grande talento ma un talento non fotografico un talento per relazionarsi con le persone per capire e per esprimersi attraverso poi il movimento fotografico che ha scoperto con il tempo e ha curato con il tempo che è la fotografia del movimento fotografico quindi non mi stupisce che Dino oggi abbia maturato questo percorso fotografico e abbia fatto tesoro di questa sua sensibilità che ha sempre avuto e questo libro non è altro che un tassello di questo percorso fotografico che è indirebile io credo ancora è per fortuna per fortuna per lui e per fortuna per noi che possiamo continuare a camminare i suoi lavori opus focus secondo me è un lavoro che è fatto da lontano però perché io l'ho seguito fin da d'inizio e credo che è stato declinato forse in maniera leggermente diversa rispetto ai lavori precedenti ma c'è tanto di tuo dentro questo lavoro anche proprio come linguaggio perché lo sfocato nei nei profondi sono parte del tuo linguaggio da diversi anni già il tuo lavoro precedente a questo è un esempio tangibile quindi ti rinnovo i miei complimenti e ti invito poi in subattima quando volrai ma così a titolo di amico te lo dico grazie Fabio continua così e complimenti anche a tua figlia che secondo me per qualche anno nonostante qualche riuntanza sulla fotografia è quella che poi anche lei saprà risprimersi molto bene con il mezzo fotografo grazie se no farà le torte come farà grazie Clave ebbene no io veramente vi ringrazio avete altre domande? se avete delle domande io e Claudia no 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 dai dire a tua che sei la mamma io sono orgogliosa di loro guarda c'è una passione che lui ha quando parla di fotografia penso che lo percepiate tutti quanti sì sì e anche Chloe ogni tanto ci mettiamo a ridere perché si mette lì in cameretta prende i personaggi li mette in posa fa le foto è bello perché lo fa proprio così noi non la guardi in canza sentiamo silenzio e lei dice che fa le foto quindi no è bello è bello assolutamente ci hai dato un'altra visione comunque ti ringrazio io invece Dino l'ho conosciuto quando avevo la l'ho conosciuto solo ho conosciuto una sua opera e me ne sono innamorata e poi perché avevo una galleria dentro il Mao insieme a Doardo Di Mauro io gestivo praticamente questa galleria che chiamava L'Uno Up Art Gallery e tutto altro mentre stavo sistemando il dietro della galleria trovo questa foto molto grande e me ne innamorai e poi chiesi a Doardo chi era e da lì l'ho cercato e poi l'ho seguito nel tuo percorso dunque sono contenta sono molto contenta che tu non sia qua grazie veramente vi ringrazio ringrazio soprattutto a Rosy ringrazio anche le sue due ragazze che ci hanno aiutato a tradestire sono fuori a fare da Bepisitra che vai oggi e che sono che sono state le sue le sue amiche se vuole rispondare i vetri ringrazio tantissimo a Sara per la bellissima lettura la chiamo io del nostro progetto e niente passate parola perché secondo me è un posto che merita di essere conosciuto già le persone che sono qui oggi tantissimi di voi non la conoscevano come realtà ma seguiteli ovviamente sui social ma poi passate qua spesso perché sia le vetrine su che le saracinesche giù le sarande giù hanno delle belle delle belle opere la mia mostra la nostra mostra rimane qua per un mesetto quasi per un mesetto perché poi il 25 aprile ci sarà diciamo apriremo diventerà la biblioteca diventerà faremo l'inaugurazione della biblioteca ci sarà Diego Pomarico che metterà le sue opere pittoriche sulla state view e dipingerà una delle serrande cioè il 25 aprile la mattina ci sarà l'inaugurazione della biblioteca Anaclerio e poi si prosegue tutto il giorno se non andate via noi siamo qua grazie io rimango a disposizione ci sono delle copie qua firmate da Chloe ovviamente che si viva a prendere un po' di potenza che si viva a prendere un po' di potenza che si viva a prendere un po' di potenza che si viva a prendere un po' di potenza